1300 vaccinazioni al giorno. Questo è l'obiettivo a cui si vuole puntare con l'inaugurazione del centro vaccinazioni nella sede dell'ex faggianeria del Bosco di Capodimonte. Sette boxe per le somministrazioni, precedenza ai caregiver, ovvero chi assiste anziani e persone malate, e poi cittadini per fasce d'età, prediligendo i residenti nei quartieri vicini. Oltre alla segnaletica che facilita il percorso dei napoletani verso la faggianeria, a disposizione delle persone con difficoltà motori all'ingresso di Portamiano ci sono delle navette elettriche. La faggianeria, con i suoi millimetri quadri e un accesso vicino al capolinea del bus 3M, che collega ogni 15 minuti il Bosco con i principali musei della collina di Capodimonte, ha spazi per accogliere la campagna vaccinale di massa e garantire allo stesso tempo il giusto distanziamento tra cittadini, prima e dopo la vaccinazione. Ad accogliere la stampa in occasione dell'apertura del centro, il direttore del Bosco e del Museo di Capodimonte, Silvan Bellegere. La SLER mi ha detto che l'oggettivo era 1300 al giorno, attorno, inizieremo un po' meno immagino, sarà crescendo questo numero, ma è molto importante anche per il quartiere di andare a piedi dai posti vicini, essere vaccinato, riposarsi. Vorrei portarvi nella sala, l'ultima sala, dove dopo la vaccinazione i visitatori sono richiesti di aspettare.